Carissimi fratelli e amici, buona giornata, pace del Signore. Leggiamo questa mattina nel Vangelo di Giovanni, capitolo 1, i versi da 35 fino a 51. Come detto anche in altre occasioni, noi ci soffermeremo soltanto su un verso o su una parte del passo di cui si propone la lettura, il resto naturalmente sarà oggetto delle vostre personali meditazioni. Innanzitutto consideriamo quello che Gesù, o meglio, Giovanni Battista dirà riguardo a Gesù. Vale a dire che nel vederlo venire disse ecco l'agnello di Dio. È importante quello che Giovanni fece. Egli era la voce che era stata mandata per preparare una via e la via era quella di Gesù Cristo. Nel veder arrivare Gesù, egli non ha titubanze nel proclamare chi era l'agnello di Dio. Ancora oggi ci sono molti uomini che predicano l'Evangelo, che preparano la strada alla venuta di Cristo. Cristo che un giorno ritornerà in gloria, ma che ora vuole entrare nel cuore di ogni uomo e di ogni donna per potare salvezza e redenzione. E il messaggio è sempre lo stesso, non è cambiato, è Gesù l'agnello di Dio. L'agnello era una figura importante nella liturgia ebraica perché rappresentava il mezzo di cui Dio si era servito per liberare Israele dall'angelo sterminatore che nell'ultima paaga in Egitto uccise tutti i primogeniti. Ebbene ancora oggi l'agnello di Dio, vale a dire Gesù, è l'unico che è in grado di far scampare l'anima dell'uomo dal giudizio imminente di Dio che si manifesterà su tutti quanti quando un giorno verrà il tempo in cui Dio dal suo trono manifesterà la sua giustizia. È bello vedere che Giovanni lo proclama come l'agnello di Dio. Non è qualcosa che è stato fatto dall'uomo ma è qualcosa che viene direttamente da parte di Dio. Sì, le religioni cercano di stabilire una strada che permetta all'uomo di poter raggiungere in qualche modo Dio. Sacrifici, pellegrinaggi, delle volte anche delle forme di auto-violenza per cercare in qualche modo di poter placare l'ira di un Dio furente. E invece il cristianesimo ci ricorda che è Dio che raggiunge l'uomo e questo lo fa per mezzo di Gesù Cristo. E mentre le religioni si affannano a presentare regole su regole e delle volte nel corso del tempo le cambiano perché si accorgono di aver commesso degli errori, il Vangelo presenta invece la via della rigenerazione che si ottiene mediante la fede in Gesù Cristo. Ed è per la grazia di Dio che tutto ciò avviene ed è per la grazia di Dio che il cuore dell'uomo insalabilmente vianligno viene sostituito da un cuore nuovo, quello che viene dalla grazia. E questo cuore nuovo aspira alle cose buone, alle azioni buone, alle opere buone. E in quest'ottica l'agire, l'operare diventa un mezzo straordinario per testimoniare della grazia di Dio in noi. Non sono un mezzo per essere salvati ma sono una conseguenza, mi riferisco alle buone opere, della salvezza ottenuta. Ecco l'agnello di Dio. Non c'è bisogno di altro in parole povere. È Lui il tutto. Non c'è bisogno di aggiungere nulla ma non si può neanche sottrarre nulla a questo. E ancora oggi noi vogliamo proclamare che solo Gesù Cristo è il salvatore del mondo. E che non c'è alcun altro al di fuori di Lui. Come Pietro disse, nessun altro nome, nessun altro nome scusate, è stato dato all'uomo per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. Ecco l'agnello di Dio. Ancora oggi questo agnello si presenta all'uomo come l'unico strumento per poter ottenere la vita eterna. E qui la scelta di ogni uomo è decisiva. Si può decidere di seguire una religione, per quanto nobile e apprezzabile esso sia, non serve a nulla ai fini della salvezza eterna. Si può decidere di seguire qualche leader religioso che con dei pomposi discorsi riesce a incantare e a sedurre i cuori dei semplici. Anche questo sarà inutile ai fini della salvezza eterna. L'unica opportunità che l'uomo ha di poter ricevere l'eterna vita è quella di accogliere Cristo come Agnello di Dio nel proprio cuore. Seguivano Giovanni, le persone, ma quando egli disse ecco l'agnello di Dio, i suoi discepoli, leggiamo al verso 37, seguirono Gesù. E noi vogliamo seguire Gesù. Vogliamo andare dietro Lui. Vogliamo calcare i Suoi passi, le orme dei Suoi passi. E vogliamo imitarlo in tutto e per tutto. È possibile, sì, con un cuore nuovo, con un cuore rigenerato, è possibile. E questo ci è testimoniato dalla storia della Chiesa. Dove gli uomini hanno veramente accettato Cristo e hanno dato a Lui spazio nella loro vita, ci sono sempre state testimonianze reali e viventi che è possibile vivere per Cristo, con Cristo, in Cristo e come Cristo. Ancora oggi, nel 2020, siamo chiamati anche noi a fare una scelta radicale e a decidere di seguire l'Agnello di Dio. Non importa quanti saremo, ciò che è importante è seguire l'Agnello di Dio. Un cantico composto da un missionario che, per la causa dell'Evangelo, si trovò in pericolo di morte, dice, io seguo Cristo, mi son deciso, indietro no, non tornerò. E aggiunge, se nessun altro dovesse venire con me, io pure lo seguirò. Sì, fratello, sorella, amico, amica cara, vogliamo seguire Gesù, costi quel che costi. Vogliamo rimanere fedeli a Lui, vogliamo essere amanti dell'Agnello di Dio e vogliamo ubbidire a Dio con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutta l'anima, ma non con i nostri sforzi o con i nostri sacrifici, ma mediante la nuova vita che in Cristo ci viene offerta. Ecco l'Agnello di Dio che anche tu stamattina possa contemplare quell'ommirabile sacrificio immacolato che è stato innalzato sulla croce duemila anni fa e possa diventare esso per te la ragione della vita. Che la pace di Dio, la grazia, l'amore, la guida e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti quanti noi ancora in questo nuovo giorno. Pace del Signore, Dio ci benedica insieme. Grazie.